Dal profilo Facebook di Mario Adinolfi del 27 luglio 2024 Dal discorso di San Giovanni Paolo II ai giovani cileni dell'agosto del 2015 Non si può vincere il male con il bene se non si ha il senso di Dio, della sua azione, della sua presenza che ci invita a scommettere sempre per la grazia, per la vita, contro il peccato, contro la morte È in gioco la sorte dell'umanità L'uomo può costruire un mondo senza Dio, ma questo mondo finirà per rivoltarsi contro l'uomo Sette minuti di discorso di Wojtyla e quattro ore di pecionata parigina si dissolvono Antidoti al veleno servono, mettiamoli in bisaccia L'uomo può costruire un mondo senza Dio, ma questo mondo finirà